eccoci tornati in diretta dallo stand della web tv qui dal park nord dello stadio ganio sono molto molto contento già da di vedere a fianco a te una giovane donna fumettista dopo due uomini nerboruti diciamo molto brutti anche se posso aggiungere no 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 ragazzi non potete dire con tutti e due attenzione primo scopo finalmente abbiamo scoperchiato tu devi stare attento però di solito si dice sempre beato tra le donne in questo caso le fumettiste sono beate tra gli uomini almeno quelle della mia generazione allora visto che io indagiamo magari questo aspetto questo punto nella domanda fumettologica lo vuoi indagare subito ma anche no allora mandiamo prima lo stacchetto della domanda fumettologica perché sono sicuro che con lei sarai più morbido degli altri morbida è morbida un occhio guardava la regia non mettevo in discussione assolutamente niente non mi permetterei mai allora stacchetto della domanda fumettologica e poi giada fai il tuo lavoro ormai lo sai fare meglio di noi prego giada va bene sarà allora niente la mia domanda è in realtà riguarda anche la tematica che concerne appunto slam x e l'incontro del fumetto con la musica e la scena indipendente diciamo e leggevo appunto sul tuo blog che c'è uno scoop allora la domanda fumettologica non è tecnica ma in realtà cerca di indagare quelli che sono i tuoi progetti futuri con andrea scarabelli appunto abbiamo ho visto che lui ha pubblicato un volume che riguarda la storia della scena indipendente musicale italiana e che tu invece hai un nuovo progetto se ce lo vuoi presentare insomma è una domanda lì aperta ma è un pettegolezzo non è un pettegolezzo raga è uno scoop intanto intanto state calme per favore siamo due donne ci alleiamo subito prego prego non volevo interrompervi comunque sì sto lavorando a questo progetto che sulla falsariga del libro di andrea scarabelli che è suonare il paese prima che cada è una raccolta di 12 interviste a personaggi della scena indipendente musicale italiana e insomma io lavoro un progetto simile a quello però dedicato ai fumettisti della scena indipendente e sono un po di mesi che sto andando in giro a fare interviste e niente adesso non mi posso sbilanciare troppo però secondo me sarà un libro molto interessante da leggere perché sono tutte cose che non sono mai state storicizzate cioè sono passate magari dal web ma non per non so un ragazzo che adesso ha 15 o 20 anni ha bisogno di ordine magari sapere che cosa è successo dal 2000 al 2010 è impossibile da ricostruire quindi ma parlando di nomi sempre per lo scoop alcuni dei musicisti che erano stati intervistati appunto da andrea per il suo volume sono ospiti questa sera non si può sapere chi sono alcuni dei fumettisti intervistati sono ospiti questa sera perché ad esempio andrea bruno è stato intervistato vi posso dire grande scoop il giorno di pasqua ok fantastico alla faccia delle festività della santa pasqua il fumetto indipendente va oltre su twitter l'hashtag è scop in questo momento avete già detti scop è l'hashtag prego comunque diciamo ho scelto dei fumettisti che potessero rappresentare anche dei collettivi perché il fumetto indipendente è passato spesso da lavori di gruppo quindi ricordiamo canicola ricordiamo i super amici e altre realtà insomma come teiera come ernest quella di cui faccio parte io e ci sono fumettisti per ognuna di queste diciamo realtà collettive e poi qualche nome singolo tipo alessandro baronciani che insomma è a metà tra la musica e il fumetto e che incontreremo appunto il 12 certo per la prima certo ok quindi alcuni nomi li abbiamo hai spiegato un po' quello che sta alla base di questo progetto e fagli sta domanda cattiva dai era questa la mia domanda ah questa è la domanda cattiva vedi che mi hai sopravvalutata ma Barbaruca scusami eh ma è solo con Calia allora è solo con Calia ci sono andata giù pesante va bene va bene ci saranno i motivi personali non andiamo a indagare va bene va bene e noi ti ringraziamo per sei stata qui con noi grazie a voi l'intervista è venuta meglio fino adesso da quando è iniziato il festival nel cioè da quando siamo qua a Barba no? dal 2000 che anno era? io sto sudando tipo 800 camicia per 8 chili sei stata bravissima Giada sono stati altrettanto bravi i tuoi fumettisti l'assumiamo? l'assumiamo? io l'assumerei no perché siamo già tutti in cassa integrazione vabbè vabbè infatti come vedi non c'è della passata la rivoluzione degli ingranaggi partirà anche da qui allora stasera della cassa integrazione ci siamo dati il turno io e Ivan Grozni perché è rotazione la cassa come sapete grazie mille grazie Sara noi ripassiamo la linea alla regia forse daremo già subito anche la linea a Slamix ancora grazie a voi viva il fumetto viva Shev.it viva Slamix grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti